ciao e bentornati sul canale bentornati carissimi sul canale abbiamo cambiato postazione allora voi vedrete altri video con vecchie postazioni per un po avremo questa e siamo mancati non siamo stati proprio presentissimi perché ci siamo fatti tutti di influenza e ne siamo appena usciti quindi abbiamo tamponato con dei vecchi video anche noi un po di tosse c'è rimasta ma quindi abbiamo deciso di raccogliere tutti i gufi con che abbiamo preso nei giorni passati e farli tutti insieme non dividere in due video ma un po come un regalo finale sperando di riuscire a finire così possibile la collezione perché balli sentite tunk tunk e lei che balla fino all'altro giorno era lì con la copertina adesso invece balla allora attenzione checklist leggermente rotto ci manca babbo natale la uffetta ma hai lanciato la carta in fondo alla stanza in pratica beh ce ne abbiamo uno due tre quattro cinque sei quindi ne mancano altri sei subito così wow guarda 7 questo è bello ma visto che ci siamo guardate sullo sfondo tutti i doppi che siamo tantissimi questo non è doppio e preparati poi per la classifica non devi lanciare in giro la roba quella va buttata e questo è doppio uno dei preferiti tra parentesi ma non di sara ricordiamo a tutti sì ma tu sei troppo veloce è remontata la remontata la remontata a quattro pari allora ricordiamo che questi si comprano alla conad ogni 15 euro di spesa aggiungendo 1 euro 90 e 50 centesimi vanno in beneficenza agli ospedali pediatrici allora allora andiamo avanti e questo va qua la classifica ed è passata in testa la babba natale gufa natale come si può chiamare gufa natale allora chi vorresti trovare vabbè l'espetta vabbè uno l'altro anch'io vabbè quello ci manca però ok aspetta che sposto la classifica mettiamo qui questo qui questo e questi e ormai questi qui sono da soli ce ne mancano solo due non so quanti ne abbiamo aperti però parecchi quindi otto ne mancano quattro quattro ce ne mancano ci manca babbo natale tra parentesi babbo natale due elfi e l'ognomo ma l'ognomo chi non antonio non antonio non antonio e noi abbiamo abbiamo trovato ok poi devo raccogliere una zenzero zenzì guenzi e che va a due anche lui allora non sono pochi facci una classifica qua davanti qua lontano un po e faccio una classifica al primo posto semmai partire dall'ultimo è sempre dal primo no allora partiamo dall'ultimo partiamo dall'ultimo non è all'ultimo posto lui non può essere all'ultimo posto no hai ragione è penultimo non concordo neanche su questo no 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 così quindi questo è il l'ultimo penultimo terzo l'ultimo quarto ultimo abbiamo babbo natale mettiamoli dietro e adesso vediamo i quattro davanti sono troppi che non ci stanno in quadratura poi alla ultimo e poi questo poi al quinto posto lui poi quindi quarto terzo secondo e primo vedete che non si vedono bene quindi sono otto primo secondo terzo quarto quinto sesso settimo di questi due di questi c'è stata la rimontata di questi come doppi si vince la babba natale è passata a cinque esatto e vi ricordiamo che questo taglio sopra per inserire il bigliettino il segna posto a tavola cosa che faremo sicuramente e niente adesso riprenderemo a fare un po di recensione abbiamo pronte altre da fare quindi io vi ringrazio vi ricordo di iscrivervi al canale mettere un like condividere commentare schiacciare la campanella per essere aggiornati su tutti i video e come sempre noi vi sentiamo e ci vediamo al prossimo video ballando